Buongiorno a tutti, siamo in video dove siamo diretti, dirette, diretti, il paese è abbandonato. In 1963 году sòsò l'opposizione, po-italianca Frano, e non c'è un pollo, e mi sono venuto da questo paese. Ci sono stati in questo paese, sono stati in questo paese, in questo paese, in questo paese non vivi nessuno. На улице жара Посетить этот город Можно только с гидом Если вы хотите внутрь войти Мы заказали тур на 11.30 Пахнет деревней Травой Свежей Я думала никого не будет Но людей много Субтитры Продолжение На трех крошек Субтитры 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 e se ne sono dimenticati. e se ne sono dimenticati, non si sono dimenticati, non si sono dimenticati, non si sono dimenticati. e se ne sono dimenticati, non si sono dimenticati, non si sono dimenticati, non si sono dimenticati. come vi dicevo, non è bizantina, è ricoperta da maiolica e la maiolica viene portata in Italia sul finire del 1300 dagli spagnoli. Quindi sia la cupola, sia il campanile, sia la chiesa sono di epoca aragonese. Sopra ve ne faccio vedere una davvero pericolosa di piante. Allora, questa chiesa è dedicata a San Nicola di Bari. Chi è di Bari? Questo fungo brucia e brucia per tantissimo tempo. Inoltre la parte esterna, questa crosta che vedete, è ignifuga, non brucia. Quindi poteva essere portato acceso. Questo chiamano bianco ed è una delle piante più tossiche e velenose tra quelle che abbiamo nel nostro territorio. Allora, qui ci vedete, ci vedete, ci vedete, ci vedete. Ci vedete, ci vedete, ci vedete, ci vedete, ci vedete. Faccio ci vedete, ciao Inoltre che è lonti Ci vedete. Faccio No ma non è mio, amore io adesso li alla piazza e il solello è un'attività non è un sport non solo io non mi guardo è 6 ore e noi qui come è andata è andata benissimo il tempo era dalla nostra parte anche il palco niente male no non c'era molta gente non c'erano i cafoni soprattutto e ci è piaciuto sì ci ritiriamo alle magioni ci vediamo alla prossima alla prossima ciao ragazzi ciao a tutti ciao